lì c'è un bel pesciolone facciamo il bagno c'è uno la vedi l'onda? le onde? lì c'era un bel pesciolone è già uscito due volte che bello però il laghetto è qua la cresta è aperta però l'altro pezzo è rosso il panettone eh l'avete chiuso peccato dovevo farlo l'ultimo arco no no questo qua no 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 eh giusto quindi per tornare indietro noi siamo dove? l'ago? l'ago? dovete andare fino a sulla e tornare indietro perchè? dai andiamo andiamo perchè? la domanda è ti hanno chiuso la rossa non fai questa la domanda è perchè? perchè? la domanda è la domanda è la domanda è la domanda è la domanda è